Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se qualcuno ha detto che non può stare, non può stare perché lei è un avversario politico del Partito Democratico, legittimamente. Quindi va a fare politica nei suoi luoghi e nei suoi spazi. Io non so, punto, non ho nient'altro. Sto sentendo tutto da te, non lo so di 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 te. Grazie a tutti.